Sono tante le novità di cui abbiamo parlato in questa giornata che riguardano il trattamento dei pazienti con neoplasia polmonare e con mesotelioma. Per quanto riguarda l'eoplasia polmonare il primo quesito che dobbiamo porci quando trattiamo un paziente è l'espressione di un particolare marcatore che ci dice se quel paziente è davvero responsivo all'immunoterapia. Il marcatore è il PD-L1 e per i pazienti che hanno un'espressione di PD-L1 oltre il 50% in Italia sono approvate attualmente tre immunoterapici che possono essere utilizzati nella pratica clinica, il pembrolizumab, l'attezolizumab ed il cemiprimab. Per i pazienti nei quali invece il PD-L1 è inferiore al 50% il trattamento standard prevede la combinazione di immunoterapia e chemioterapia. In questi casi possiamo utilizzare o la combinazione di pembrolizumab e quattro cicli di chemioterapia seguiti poi da una terapia di mantenimento per due anni oppure una combinazione di due immunoterapici, il nivolumab e l'ipilimumab associati a solo due cicli di chemioterapia seguiti sempre da una terapia di mantenimento per due anni. Per i pazienti invece che hanno una malattia localmente avanzata con un'espressione di questo PD-L1 oltre l'1%, il trattamento standard prevede la combinazione di chemio e radioterapia quando i pazienti ovviamente non sono operabili, seguiti dal durvalumab per 12 mesi. In questo caso il trattamento immunoterapico consente di migliorare notevolmente la sopravvivenza. Per i pazienti che hanno una malattia operabile e che quindi sono sottoposti all'intervento chirurgico, una delle maggiori novità è la dimostrazione dell'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti operati e trattati con chemoterapia adiuvante. In questi casi la somministrazione di atezolizumab per un anno consente di migliorare e di ridurre, migliorare la prognosi e ridurre la possibilità di ricidiva e verrà velocemente approvata l'anno prossimo nei pazienti che hanno sempre l'espressione del PD-L1 superiore al 50%. Le novità riguardano anche i pazienti con mesotelioma perché recentemente è stata approvata la combinazione di nivolumab e ipilimumab anche per i pazienti con mesotelioma con istotipo non epitelioide sulla base dei risultati di uno studio clinico che ha dimostrato in questo setting di pazienti la superiorità dell'immunoterapia rispetto alla chemio con un migliore profilo di tollerabilità.